Presidente, siamo a fine agosto, come è andata questa estate per l'aeroporto d'Abruzzo in quanto a numeri? I dati sono estremamente esaltanti, abbiamo riniziato a fare numeri importanti tutti i giorni su quasi tutti i voli e anche le nuove destinazioni hanno risposto bene, soprattutto per quanto riguarda alcune città come Varsavia, Cracovia e anche Praga dove notiamo anche ottimi numeri per quanto riguarda l'encoming. Per il prossimo inverno, per l'autunno che sta per arrivare, cosa possiamo dire? Abbiamo già raggiunto un piccolo e importante risultato grazie alla collaborazione con Ryanair che ci ha assicurato quattro voli su quattro destinazioni per noi molto importanti quali Bergamo-Rio Alzerio, Torino, Charleroi e Bucarest che già da ottobre avranno un giorno in più sia per l'arrivo che per la partenza. Parallelamente sondiamo e stimoliamo gli altri vettori per rafforzare una rotta o individuare una nuova destinazione notiamo molta cautela da parte delle compagnie aeree perché la pandemia vizia molti dati e molte dinamiche ma non ci fermiamo nel chiedere e vediamo se riusciamo a ottenere qualcosina in più per il prossimo autunno inverto ma sicuramente stiamo già iniziando a lavorare per la Summer 2022. Per chiudere, Presidente, ci sono buone notizie anche per quanto riguarda l'avvio dell'iter per l'allungamento della pista? Sì, ci sono diversi progetti masterplan sull'infrastruttura aeroportuale il più importante, il più strategico è quello dell'allungamento della pista il 15 luglio sono partite le lettere degli espropri per le particelle territoriali attinenti alla pista da quel momento parte l'iter e non ci fermeremo un attimo per far sì che la pista si allunghi nel minor tempo possibile.